Allora, occupiamoci dunque della storia della pedagogia nell'antichità classica. Che cosa si intende normalmente per antichità classica? Diamo una definizione cronologica, certamente stiamo parlando della elaborazione di modelli educativi e pedagogici nelle antiche civiltà, quella spartana e quella ateniese. Ben prima però di formalizzare dei percorsi educativi, noi abbiamo delle fondamentali testimonianze sulle quali venivano educati i giovani spartani e giovani ateniesi nell'antichità, nella Grecia classica, ovvero due poemi. I poemi classici, in questo caso i poemi omerici, l'Iliade ed Odissea, sono serviti per secoli per la formazione dei giovani greci. In che senso? Ovviamente dando dei modelli e degli esempi che potevano essere seguiti e diventavano esempi di formazione per i giovani. L'Iliade, ben prima di essere formalizzata dal punto di vista della scrittura nell'VIII secolo a.C., fu un poema raccontato e tramandato dagli aedi e serviva appunto come base per riconoscere quali erano le virtù di un uomo, ovvero il coraggio, una formazione eroica, l'agonismo, la volontà di distruggere i nemici. In qualche modo l'Iliade serviva come prassi educativa per formare il giovane greco che avrebbe dovuto poi combattere, distruggere i nemici, formarsi come guerriero e dunque raggiungere quelle virtù che solo nel lagone della battaglia potevano essere conquistate. Dall'altra parte si prefigura, nell'Odissea invece, un modello diverso. Si prefigura il modello, si consolida il modello di colui che è il viaggiatore e che conosce. Il personaggio di Ulisse, altrettanto affascinante, accattivante per un giovane greco che ascoltava o che poi da un certo momento in poi aveva la possibilità di leggere il testo di Omero, Ulisse appunto diventava colui che attraverso un viaggio di formazione apprendeva, conosceva, incontrava altri popoli, quindi entrava in relazioni con civiltà differenti e da ognuna traeva buone prassi, traeva conoscenze. Certo Ulisse molto meno battagliero rispetto ai grandi eroi dell'Iliade, ma altrettanto interessante come personaggio perché appunto attraverso la sua astuzia e il suo coraggio riesce in una impresa pressoché impossibile come quella di ritornare nella sua terra. Il modello greco di educazione è il modello che noi definiamo Paideia. Che cosa si intende con questo termine? Si intende appunto un modello di formazione completa dell'individuo, dell'uomo stesso che è prima di tutto il cittadino all'interno della comunità in cui vive e solo dopo può essere appunto inteso come colui che ha un ruolo, un mestiere, un lavoro all'interno della collettività. Ben presto però si evidenzia e si sottolinea come la prima parte di questa Paideia sia imprescindibile. Per quale motivo? Prendiamo l'esempio di Atene. Ad Atene le cariche politiche, la democrazia, pretende e obbliga ogni cittadino ad avere un ruolo, ad avere una sua funzione all'interno di quella che è la rotazione delle cariche politiche. Bene, Atene, il governo di Atene, pretende e presuppone che il cittadino sia un individuo che ha l'educazione ai valori della città stessa, che ha una sua identità formata attraverso la pratica della politica e anche della vita nella comunità stessa e dunque questa educazione lo forma fin dalla giovinezza come cittadino che dovrà avere un ruolo particolare all'interno della collettività in cui vive. Il modello della Paideia, soprattutto ateniese, quindi in una democrazia, viene a contrastare invece con il modello antitetico che è quello dell'agogè spartana. Che cosa si intende con questo termine? Agogè è la formazione dura, spietata, crudele che a Sparta veniva riservata ai giovani. Un bambino veniva sottratto alla madre, alla famiglia all'età di sette anni, dopodiché entrava nel mondo dei soldati, nella caserma, in questa grande caserma che era Sparta stessa, la città stessa strutturata perché i suoi giovani diventassero guerrieri, venendo appunto sottratto all'ambito familiare e materno e veniva addestrato in maniera molto dura, molto crudele, doveva sottoporsi a una formazione fisica, doveva sopportare la fatica, le punizioni corporali che venivano inflitte se non avesse ottemperato quelli che erano gli ordini dei capi dell'esercito e soprattutto soltanto dopo aver superato questi riti di iniziazione certamente poteva considerarsi un guerriero. L'etica spartana quindi era assolutamente antitetica al modello ateniese che si basava invece sulla idea di una partecipazione spontanea, volontaristica e anche fondata sui valori della città di Atene rispetto a quello che era invece un mero apprendimento di tecniche militari e la propaganda con la quale appunto i giovani spartani venivano educati. Grazie a tutti!